come luogo in cui le pari opportunità potessero esercitarsi, dal fascismo in poi il concetto di patria assume sostanza contro il ministro. Pure gli scorsi troppo alti davanti al cartello 11, perché Alessandro Di Battista abbiamo due problemi. Uno è quello della qualità della classe dirigente. Allora, Pozzolo lo spara alla festa del Capodanno, l'olobrigida che ferma il treno per scendere dove gli serve, Crosetto, ce ne hanno parlato Luca e Paolo a lungo, che insulta le persone sui social, la russa che con il figlio accusato lo interroga e dice no, ci ho parlato io, innocente. San Giuliano non legge i libri del premio Strega e lo dice, neanche glielo chiedono. La russa dice che l'SS a Via Rasella erano una banda musicale e andiamo avanti, perché Rampelli dice che i gay spacciano i bambini per i loro figli, che piante i dosi dice dei migranti che sono un carico residuale, karaoke. La Meloni ha detto durante la conferenza stampa, dice il giorno più duro è stato, quello di Cutro, la sera però stava a fare il cataraoke con Salvini. L'olobrigida che parla di sostituzione etnica, Balditara per uno studente dice l'umiliazione è formativa, tutto questo ci ha fatto discutere molto della qualità della classe dirigente e diceva in qualche modo all'inizio Travaglio, attenzione perché c'è stata una conferenza stampa in cui noi eravamo concentrati su questi temi e poi è uscito fuori, guardate il cartello, che c'erano state delle imprecisioni riguardo all'economia, riguardo al, sì, il cartello prima o poi uscirà, comunque abbiamo detto le tasse, eccole qua, non sono state alzate le tasse che invece salivano, non sono state ridotte le imposte con tagli di spesa e invece sono state fatte in deficit e altri temi che abbiamo già affrontato. La sua visione, Alessandro Di Battista. Allora, in quella carrellata lì di Gaffo o Scenita Bari, per me manca la peggiore in assoluto. Oggi il sottosegretario a beni culturali Vittorio Sgarbi è ufficialmente indagato dopo un'inchiesta eccellente del Fatto Quotidiano e di Report per autoriciclaggio nell'ambito di un'inchiesta per furto di un'opera d'arte. Vittorio Sgarbi... Sì, lui dice che non è vero. Vittorio Sgarbi attualmente è alle deleghe alla tutela della sicurezza del patrimonio artistico. Questa è una roba veramente che ci ridono dietro tutto il mondo, cioè colui che è responsabile del patrimonio artistico è indagato nell'ambito di un'inchiesta di un capolavoro artistico. È la più clamorosa in assoluto. Per me, ripeto, per me e per la Costituzione ogni cittadino innocente fino a sentenza passata. Sì, lui sostiene che è stata rubata la copia del suo quadro. Probabile per opportunità politica mantenere al suo posto un sottosegretario a beni culturali indagato per una vicenda del genere. Oltretutto il servizio di Report e una serie di questioni uscite fuori sono vergognose. Conferenza stampa della Meloni è vero, ha mentito su alcune cose, ha glissato su determinate domande perché è brava, parla, vedete come funziona lei, parla oggi, prende un bersaglio semplice, facile. Chiara Ferragni la nomina due o tre volte. Evita di parlare della strage dei bambini palestinesi a Gaza. Evita di parlare, questo è un articolo di Repubblica, del fallimento purtroppo italiano ed europeo in Ucraina. Pensate, Repubblica, Ucraina, corto di soldati, servono rinforzi, sarà reclutato anche chi lavora all'estero. In Ucraina non stanno finendo le armi, stanno finendo i soldati ucraini massacrati durante la controponsiglia. Sulle banche, Floris, ha detto bene, ma veramente possiamo credere alla Meloni, come diceva, operazione We Win, quella della tassazione, gli extra profitti. Le banche si sono arricchite rispetto all'anno scorso in maniera incredibile grazie all'aumento del costo del denaro, soprattutto sui mutui, ai ragazzi, alle giovani coppie, parlando anche delle famiglie tradizionali, slogan meloriano. E non è stato tassato un euro, cioè non ha aumentato di un euro il gesto. Scusa un attimo, Florio. Questo è avvenuto nell'ultimo anno. Poi possiamo parlare di accalarenza, dei reati di opinioni, magari un'idea in questo diversa anche sull'inasprimento dei reati di opinioni, ma rispetto all'anno scorso, sbarchi più 50%, tassazioni extra profitti fallita, strategia in Ucraina fallita, la sicurezza. Ma qualcuno in Italia pensa veramente che oggi le città italiane siano più sicure dell'anno scorso. Rispetto ai dati economici, guardate, è vero che l'inflazione è vero, Floris, che l'inflazione è diminuita in tutta Europa e non soltanto in Italia, ma il costo dei beni necessari per il sostentamento degli italiani non è che con la diminuzione o l'interruzione dell'inflazione sono calati, perché rispetto a due anni fa sono aumentati e restano alti oggi, questo soprattutto per l'interesse ai cittadini italiani. Troppi temi, cerchiamo di squadernarli con Giorgio Mulè. Allora, va bene, temi valoriali e che prendono tanta energia, no? Perché coinvolgono l'identità delle persone. A questo punto, sembra in un secondo piano, alcuni importanti passaggi della stessa conferenza stampa di Giorgia Meloni. Innanzitutto questo, quando dice che c'è un complotto sempre pronto a prendere il suo posto. Guardate. Qualcuno in questa nazione abbia pensato di poter dare le carte. Non mi chieda di, diciamo, essere più precisa di questo. L'ho visto accadere. Vedo degli attacchi, vedo anche chi pensa che ti spaventerai se non fai quello che spera o che vuole. Non sono una persona che si spaventa facilmente. Non sono una persona che si fa condizionare. Non sono una persona che si fa ricattare. Allora, magari lei pensa, qualcuno che ci ricatta, c'è, ma c'è un passaggio. Quello dice, non mi chieda di essere più precisa. Ma come non mi chieda di essere più precisa? Deve essere più precisa. Allora, lo mettiamo anche questo sullo sfondo, perché il complotto è un altro buco nero che assorbe tutti i temi. Guardate i dubbi che solleva la conferenza stampa di Giorgia Meloni. Guardate, sono due cartelli. Sono state dette delle cose che lasciano perplessi, quantomeno. Allora, lei dice, non sono state alzate le tasse. In realtà salgono l'accisa e la benzina e dei tabacchi, l'IVA di alcuni prodotti, alcune tasse della casa. Sono state ridotte le imposte con i tagli e la spesa. Questo proprio non è vero. È stato fatto in deficit, con soldi presi in prestito. La manovra migliora le pensioni per i giovani. E qua c'è da vedere, perché in realtà è stata inasprita la legge Fornero. Si potrebbe dire, quindi, se uno esce più tardi, ci sono più soldi a disposizione per i giovani, ma è abbastanza complesso. La taxa estera profitti alle banche, un'operazione in cui vinciamo per forza, ma non è entrato un soldo nelle casse dello Stato. La riforma istituzionale non tocca ai poteri all'equilinare. Qui il pluricitato Presidente del Senato ha detto che in realtà li tocca. Mai chieste le dimissioni degli indagati. Abbiamo molti filmati, ora se vorrete ve lo faremo vedere. Addirittura della Guidi venivano chieste che, poverella, era finita in un'intercettazione in cui veramente non c'entrava nulla. Il MES non è mai stato collegato al patto di stabilità. Questa è particolarmente gustosa e ce la vediamo. Meloni, MES e patto di stabilità. L'interesse dell'Italia oggi è affrontare il negoziato sulla nuova governance europea con un approccio a pacchetto nel quale le regole del patto di stabilità, il completamento dell'Unione bancaria e i meccanismi di salvaguardia finanziaria si discutano nel loro compresso, nel rispetto del nostro interesse nazionale. E a questo punto, visto che anche il non chiedere le dimissioni è particolarmente dirompente, vediamo la richiesta di dimissioni di Giorgia Meloni. Il mio pensiero è che si deve rimettere tutto il governo. Il caso della Guidi è solamente l'ultimo caso e francamente, insomma, abbastanza inquietante. Ma guardi, noi voteremo a favore della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lotti. Io ho rilanciato, diciamo proponendo alle opposizioni, a chi volesse condividere una mozione di sfiducia all'intero governo. Il gruppo di Fratelli d'Italia voterà la sfiducia al ministro Boschi, perché il ministro Boschi purtroppo ha un conflitto di interessi grosso come una casa, ma la nostra sfiducia è prima di tutto e su tutto all'intero governo Renzi. Allora, andiamo sullo sguardo d'insieme da parte di tutti i nostri ospiti. Che impressione ha avuto della conferenza stampa di Giorgia Meloni? Prima il presidente Toti ha detto che non c'è un pericolo democratico in Italia, riferendosi appunto alla manifestazione neofascista. Secondo me c'è un pericolo democratico. Le persone non votano più e credo che le prossime elezioni europee segneranno il dato peggiore di astenzionismo. Perché non votano più? Perché tanti italiani pensano, per me ha ragione, che le principali decisioni che riguardano la loro vita non vengono neppure prese all'interno del Parlamento e neppure di Palazzo Chigi. Quando la Meloni prima dice io non sono ricattabile, cosa significa? Prima sentivo Travaglio, aveva ragione. Probabilmente neanche deve essere ricattata perché le carte di cui parla lei già le ha prese. Gliela ha date Biden, gliela ha data la Commissione Europea, le ha prese e sta giocando una partita che salvaguardia gli interessi altrui. Lo fa in Europa sul patto di stabilità che, parole di Giorgetti, era migliore la prima versione della Commissione Europea, lo fa in politica estera dove l'Italia non conta nulla e sta obbedendo, ripeto, agli ordini di Biden in Ucraina e non apre bocca rispetto al massacro di bambini palestinesi a Gaza e lo sta facendo su anche banalmente in Italia sulle questioni legate alle banche. Dunque questo per me è il problema principale democratico. Prima lei diceva una cosa, io condivido. Allora, per me la maternità è un grande valore, come lo è la paternità. A me quando qualcuno mi chiama mammo è un insulto, io sono un padre, ridendico come valore la paternità. Quindi basta mettere sullo stesso piano essere padre ed essere madre. Però in concreto, coloro che parlano appunto di la maggiore aspirazione di una diciottenne deve essere sposarsi, su questo proprio non sono d'accordo. Cosa hanno fatto concretamente in questi due anni per permettere alle famiglie di fare dei figli, di comprarsi una casa, di riuscire a pagare una rata del mutuo che nel frattempo, complice di inflazione legata anche alla strategia in Ucraina, anche a quello del costo del denaro, gli si è triplicata nell'ultimo anno e mezzo. Cosa ha fatto concretamente questo governo per aiutare una coppia, uomo e donna, di coppia tradizionale come piace a loro, per mettere su famiglie ed avere un'idea di futuro garantito. L'idea di non dover cercare, Giovanni, il secondo lavoro per campare. Perché oggi in Italia è povero anche chi lavora. Chi l'altro ieri guadagnava 800 euro al mese era già povero. Oggi con il costo della vita aumentato, chi guadagna 800 euro al mese è poverissimo, è indigente. Oggi in Italia e in Europa sono poveri i lavoratori. E questa è una cosa che allontana il cittadino da Renzo e professoressa di Cesare e poi arriviamo a Toti.